Teramo, L'Aquila e Pescara costituiranno una rete di spazi di lavoro condiviso in Abruzzo, un progetto di open co-working che sosterrà i giovani professionisti che decidono di restare nella loro terra per progettare e creare. A Teramo c'è uno spazio aperto che ospita aziende, start-up e associazioni e wide open, un modo di lavorare, un luogo che stimola la crescita professionale. Che cos'è questo spazio? Questo è uno spazio di co-working che accoglie dei liberi professionisti ma anche società e start-up, è uno spazio dove iniziare la propria carriera e proseguirla dal momento in cui si riesce a creare una connessione fra tutti e condividere tante esperienze e tante professionalità di modo che appunto si possa crescere, iniziare la propria carriera, svilupparla e diventare autonomi in un mondo in cui diciamo che la libera professione si sta sviluppando sempre di più è necessario insomma un supporto iniziale. Voi che cosa offrite? Noi offriamo dei servizi di co-working quindi diciamo da un punto di vista superficiale una scrivania e una connessione, poi in realtà c'è tutto il resto che può riguardare sia appunto il supporto professionale che quello più dinamico della costruzione dei rapporti fra tutte le persone che vivono lo spazio. Chi viene qui? Vengono qui nel nostro caso soprattutto liberi professionisti che lavorano nel settore creativo e nell'ambito della comunicazione e del design. Il progetto di open co-working così fondamentale per creativi e progettisti non poteva sfuggire all'Università degli Studi di Teramo che ha deciso di collegarsi alla rete con i suoi spin-off. Il ruolo dell'Università di Teramo in questo progetto? È un ruolo di fondamentale importanza perché abbiamo da subito sposato quelle che sono le tematiche attuali per sviluppare modelli di supporto alle start-up e modelli innovativi di lavoro. Oggi per analizzare, studiare, strutturare e governare delle variabili sono necessarie delle competenze assolutamente trasversali e lo dimostrano eventi come quelli di oggi in cui l'Ateneo partecipa, la Facoltà di Scienze della Comunicazione partecipa con i suoi spin-off per strutturare un modello a rete condiviso. L'interdisciplinarità è quello che occorre per gestire e governare quelle che sono le sfide che ci attenderanno da qui ai prossimi mesi.